Avete già pensato all'antipasto di Pasqua? Ecco questa torta salata ai carciofi particolare, andiamo in cucina! Private i carciofi delle foglie più esterne, pulite a fondo il gambo, ricavate il cuore, dividetelo a metà ed eliminate la peluria, quindi affettate. Mantenete tutto in acqua acidulata, rosolate l'aglio nell'olio, aggiungete i cuori di carciofo, aggiustate di sale e lasciate andare qualche minuto, giusto il tempo di ammorbidirli. Aggiungete il formaggio spalmabile e mettete da parte. Rotolate la pasta sfoglia e con l'aiuto di una sagoma ricavate un uovo, mettete da parte ritagli e poi ricavate un altro uovo. Farcite con i carciofi, con la mozzarella e richiudete ben bene sigillando i bordi. Fate dei taglietti in superficie e con gli avanzi realizzate dei nastri farciti col formaggio spalmabile. Utilizzate i nastri per decorare l'uovo, spennellate con uovo battuto, cospargete con i semi di sesamo, qualche cuore di carciofo per decorare, dritto in forno a 200 gradi per 20-25 minuti ed ecco qua il nostro antipasto è pronto e visto che questa è una prova, io assaggio subito!